Caccia i complici del 17enne Napoli urla basta morti il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio La pistola acquistata per 500 euro al Campo Rom si indaga sugli amici del killer dal prefetto a Don Luigi Merola un appello ad arginare la deriva criminale tra i giovani Napoli-Manfredi si smarca nel duello sul terzo mandato in consiglio regionale la resa dei conti tra De Luca e di fedelissimi di Schlein fuoco di fila dal centro-destra, il sindaco si chiama fuori dalla contesa questione interna e dem, nessuna conseguenza per il comune di Napoli Avellino, caso nomine, nuove tensioni in aula, si riaccende in consiglio comunale lo scontro sulle nomine in commissione bilancio che hanno spinto la consigliera Coppola alle dimissioni Genovese accusa, delitto politico perfetto, Gengaro attacca, pagina nera per la città Caos, trasporti nel Sannio, fumata bianca in regione, incontro decisivo oggi dopo le proteste le polemiche per lo spostamento del terminal bus individuata una prima soluzione tra il comune di Benevento, Palazzo Santa Lucia e Confindustria scongiurati i costi aggiuntivi per le aziende Turismo, Salerno al top, nuove rotte per l'inverno il ponte di Ogni Santi si chiude con ottimi riscontri in termini di presenza, occupate nove camere su dieci soddisfatti gli operatori dell'accoglienza e dall'aeroporto decollano i primi collegamenti natalizi verso Sharm el Sheikh Erano le principali notizie di oggi, le avete ascoltate nei nostri titoli Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di Otto Channel in apertura le indagini sulla morte del 19enne di San Sebastiano Alvesuvio ucciso dopo una lite, si cercano i complici intanto nelle prossime ore l'udienza di convalida del minorenne che per il legale ha problemi psichiatrici vediamo la pistola dalla quale è partito il proiettile che ha ucciso il 19enne Santo Romano sarebbe stata acquistata per 500 euro in un campo rom è quanto emerge dai riscontri investigativi dei carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'omicidio di San Sebastiano Alvesuvio arrivato al culmine di una lite l'arma però non è stata ancora ritrovata nelle prossime ore il 17enne accusato di aver ucciso il giovane portiere è atteso all'udienza di convalida presso il tribunale dei minorenni il suo legale Luca Raviele ha paventato problemi psichiatrici per il ragazzo già evidenziati in una perizia di due anni fa probabile che al giudice ribadirà la versione fornita nelle scorse ore vale a dire che ha sparato per reagire ad un'aggressione elementi che saranno valutati dal PM inquirenti al lavoro anche per identificare tutti i partecipanti alla lite che ha insanguinato la notte di San Sebastiano Alvesuvio in particolare si cercano gli amici del killer 17enne Reo Confesso che nelle ore immediatamente successivi all'omicidio hanno pubblicato una serie di contenuti social sulla tragedia di San Sebastiano Alvesuvio è intervenuto anche Antonio Maimone papà di Francesco Pio altra giovane vittima innocente serve un'operazione di alto impatto come per Caevano non possiamo più permettere che il nostro territorio sia segnato da episodi di sangue e paura l'appello rilanciato direttamente alle istituzioni e Napoli si ribella all'ondata di violenza giovanile che negli ultimi mesi si è scatenata in città con troppe vite spezzate dal prefetto al sindaco a Don Luigi Mero la parte del messaggio serve un lavoro corale per arginare la criminalità Napoli respinge la violenza dopo il caso di Santo Romano le istituzioni serrano le fila a partire dal prefetto di Napoli Michele Di Bari che ha parlato del lavoro messo in campo per il contrasto alla violenza giovanile certo il momento è particolare sul Napoli ma Napoli ha saputo sempre superare ogni momento va avanti da 2500 anni ha sempre resistito si è sempre rialzata ed è una Napoli piena di speranza positivo secondo il sindaco Manfredi anche lo sdegno che la città anche attraverso personaggi famosi sta esprimendo nei confronti dell'ondata di violenza io credo che soprattutto gli artisti coloro che influenzano di più questo immaginario collettivo dei giovani debbono avere un grande impegno civile perché questo mito delle armi che si diffonde soprattutto tra i minorenni tra ragazzini molto piccoli diventa veramente un grande problema per loro e per tutta la nostra comunità un concetto ribadito anche da chi da anni è in campo per i giovani è una bomba sociale che dobbiamo rispondere con determinazione noi educatori facendo prevenzione e lo Stato facendo repressione perché altrimenti se non mettiamo insieme queste due realtà difficilmente ce ne usciamo ci sarà un altro santo fra pochi giorni e Papa Francesco annuncia di aver incluso tra i nomi dei nuovi cardinali Monsignor Domenico Battaglia l'Arcivescovo di Napoli la notizia è stata resa nota nel pomeriggio di oggi dal direttore della sala stampa vaticana Don Mimmo come è conosciuto si aggiunge alla lista di porporati che riceveranno la beretta il prossimo 7 dicembre Calabrese di origini alla guida dell'Arcidiocesi partenopea dal 2020 è noto per il suo impegno sociale a fianco dei fragili insieme a Torino la grande diocesi di Napoli torna quindi ad essere sede cardinalizia giornata di celebrazioni in Campania per il 4 novembre i prefetti di Salerno, Avellino e Benevento lanciano un messaggio di pace e di tutela dell'unità nazionale Affermare il valore della pace anche per onorare la memoria dei tanti soldati caduti in guerra e salvaguardare l'unità nazionale sono i messaggi arrivati dai capologhi di provincia Campani nei quali si sono svolte le celebrazioni del 4 novembre a Salerno commemorazioni in piazza Vittorio Veneto in piazza Mendola Oggi i nostri militari sono impegnati in missioni di pace e oggi più che mai bisogna affermare la pace ma per affermare la pace c'è bisogno che ogni popolo riconosca le sofferenze dell'altro solo così la pace si avvicina ha detto qualche anno fa il cardinale Martini e io riprendo queste parole perché credo che siano ricche di significato Ad Avellino la manifestazione è partita da via Matteotti ed è proseguita con l'alzabbandiere e la deposizione della corona al monumento dedicato ai caduti un momento che ha visto la partecipazione anche di scuole e bambini Queste cerimonie sono secondo me indirizzate principalmente agli studenti perché richiamano la memoria di eventi, di situazioni e poi richiamano l'interesse sui temi dell'unità nazionale Ai giovani e gli studenti si è rivolta anche il prefetto di Benevento Raffaella Moscarella Ho visto con molto piacere la presenza dei ragazzi delle scuole qui alla cerimonia conto di lavorare con le istituzioni insieme con loro perché è con loro che deve partire poi la rinascita del territorio È di un morto e due persone ferite trasportate in ospedale a Benevento il tragico bilancio di un incidente stradale registrato questo pomeriggio lungo la provinciale 105 che da Santa Croce del Sagno conduce a Morcone A perdere la vita un ristoratore 67enne del posto che si trovava alla guida di un Fiat Doblò che ha tamponato violentemente il rimorchio agricolo carico di olive trainato da un trattore Terzo mandato, clima teso in vista del voto domani in aula al Consiglio regionale la segretaria Schlein ribadisce nessuna legge può farmi cambiare idea ma De Luca va avanti e il sindaco Manfredi chiarisce nessuna conseguenza per il Comune Vigilia di tensione tra i corridoi del Consiglio regionale domani mattina prodano in aula le proposte di legge sul terzo mandato e la legge elettorale ma anche il disegno di legge su iniziativa della Giunta contro l'autonomia differenziata dopo che i consiglieri del gruppo PD hanno dato il via libera in commissione alla norma che consente a Vincenzo De Luca di ricandidarsi la segretaria del PD Elish Lein ha chiuso le porte ad ogni possibilità di dialogo Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma questo non cambia la posizione del Partito Democratico che non sosterrà i presidenti uscenti per un terzo mandato se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente adesso è bene che si abitui al cambiamento perché io sono stata eletta esattamente per fare questo a questo punto salvo ripensamenti da parte dei consiglieri regionali DEM la norma dovrebbe passare a maggioranza a De Luca servono 26 preferenze per il numero legale 26 voti che il governatore vuole mettere al sicuro al netto della consigliera Fiola unica ad essersi rifiutata di firmare l'accordo sullo sfondo le possibili ripercussioni della frattura politica con il PD anche sulla tenuta della maggioranza al Comune di Napoli ma sul punto il sindaco Manfredi rispondendo ai cronisti alla festa delle forze armate è sembrato più che sicuro non c'è alcun rischio ha detto Domenichi al museo, Pompei da primato e anche per la regia di Caserta numeri eccezionali una fruizione più consapevole e rispettosa nonostante le presenze da record dice soddisfatta il direttore per il lungo ponte di ogni istante i turisti scelgono la campania a Napoli registrate 140.000 presenze per la domenica al museo l'iniziativa che permette l'ingresso gratuito nei luoghi d'arte ogni prima domenica del mese il parco archeologico di Pompei è il sito più visitato d'Italia con oltre 25.000 presenze affluenza da record anche per la regia di Caserta ha premiato non solo la domenica di gratuità ma soprattutto il fine settimana, venerdì e sabato perché oltre 15.000 visitatori vanno al di là della domenica di gratuità che ha sempre problemi organizzativi molto importanti nonostante le visite siano infatti contingentate i numeri registrati sono eccellenti e cambia anche l'approccio al sito con un'esperienza che è diventata più consapevole e rispettosa un gran risultato il progetto Museo Verde cioè riportare l'idea che il parco della regia di Caserta al sito patrimonio dell'umanità non sia il parco pubblico della città ma sia un luogo non solo di particolare fragilità ma anche con dei valori che richiedono un'attenzione maggiore devo dire che oggi anche quando chiudiamo con oltre 10.000 persone il parco è sempre in condizioni di perfetto decoro e pulizia quindi vuol dire che manteniamo quella idea di museo di accoglienza europea ma nello stesso tempo che anche gli stessi visitatori apprezzano e contribuiscono a mantenere Ad Avellino il primo consiglio comunale dopo le fibrillazioni in maggioranza la surroga della consigliera Coppola diventa terreno di scontro tra maggioranza e opposizione Ad Avellino è tornato a riunirsi il consiglio comunale per la prima volta dopo le turbulenze politiche delle ultime settimane e i diktat dei gruppi Davvero e Viva la Libertà che avrebbero portato alle dimissioni della consigliera di Siamo Avellino Antonella Coppola Il consiglio è iniziato proprio con la surroga della Coppola dopo il caso alla commissione bilancio sostituita dalla prima dei non eletti Giulia Zaolino Sulle dimissioni della Coppola Rino Genovese parla di delitto politico perfetto mentre Antonio Gengaro rincara la dose Le forze esterne facciamo riferimento all'ex sindaco Festa ma credo che sia una vicenda patetica per la città di Avellino Poi parliamo sempre di personaggi che debbono dar conto e credo che daranno conto molto presto nelle aule giudiziarie del loro operato sempre all'interno del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza Poi la mozione sulla destinazione d'uso del centro autismo da firma dei consiglieri di opposizione punto sul quale si intravede condivisione con la maggioranza Ho visto che la sindaca a differenza di quanto aveva annunciato in campagna elettorale dove si discuteva di un rapporto con l'università con le cooperative oggi ha instaurato un proficuo dialogo con l'ASL credo che questa sia la linea giusta e credo che un indirizzo del consiglio in questo senso non può che rafforzare questo proposito che oggi sta portando avanti anche l'amministrazione Una soluzione da verificare ma condivisa per il bene dei cittadini così il presidente di Confindustria Benevento resta vigorito a margine dell'incontro in regione sul nodo trasporti in città Una soluzione condivisa per risolvere le problematiche sorte con il nuovo piano traffico del comune di Benevento per lo spostamento del terminal dei bus extraurbani oggi fumata bianca in regione a margine dell'incontro convocato dal consigliere ai trasporti Luca Cascone al quale hanno partecipato l'assessore comunale Luigi Ambrosone e per Confindustria Benevento il presidente o resta vigorito il presidente della sezione trasporti Salvatore Abbatello In pratica le aziende rappresentate da Confindustria hanno chiesto ed ottenuto di confermare in via Mustilli l'area di scambio intermodale vietando il traffico veicolare e inserendo nei pressi altre aree di sosta per bus dotando l'area di un'adeguata segnaletica e un punto informativo per l'utenza inoltre considerare l'area Exconi come punto di stazionamento facoltativo garantendo dalla stessa un servizio di trasporto urbano una soluzione da verificare ma perlomeno condivisa tra Regione Comune e le aziende che noi rappresentiamo questo è un viatico per poter avere un minimo di collaborazione di pausa e non delle prese di posizioni il Comune si è dichiarato disponibile a chiarire meglio quanto aveva fatto con ordinanza Confindustria e le aziende a rivedere una posizione intransigente di non muoversi la Regione anticipato che probabilmente daranno un occhio particolare alle spese soprattutto per il trasporto urbano e per quell'exa urbano una soluzione logistica che dovrebbe consentire alle aziende di passare il primo servizio Nuove tratte per l'aeroporto di Salerno a Natale si vuole in Egitto a Sharm el Sheikh intanto continuano i record il primo novembre quasi 3.000 viaggiatori in un giorno ottimismo da parte degli addetti al settore turistico I numeri fanno ben sperare per il futuro dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi che dopo il ponte di Ogni Santi tira le somme di un periodo florido solo in un giorno venerdì primo novembre ben 2.787 passeggeri raggiungendo gli oltre 107.000 dalla sua partenza nel luglio scorso il turismo decolla dunque pienone nelle strutture ricettive soddisfatti gli addetti al settore Quest'ultimo viaggiente è stato veramente eccezionale non un full ma sicuramente da numeri da record aiutati da questo clima favorevole e fuori dal normale un caldo così non si era mai visto visto comunque le moltissime presenze di turisti stranieri soprattutto sicuramente anche nei prossimi giorni questo novembre sarà un mese da record Una crescita che non si arresta e si pensa già alle prossime rotte a Natale via la vendita dei biglietti di Air Cairo diretti in Egitto a Sharm el Sheikh l'obiettivo è rendere il territorio appetibile tutto l'anno contenti di queste nuove rotte sicuramente speriamo e aspichiamo che nel prossimo futuro ce ne siano ancora di più specialmente durante l'inverno lavoreremo con tutti gli operatori del settore affinché possiamo destracionalizzare l'attività del nostro settore e poter lavorare ancora di più durante il periodo invernale Napoli al Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio è partito il nuovo anno per le Accademy Digita e Corre protagonisti degli studenti selezionati per i corsi di alta formazione in collaborazione con multinazionali italiane ed estere inaugurato l'anno accademico per i due corsi di alta formazione del Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio Corre Academy i percorsi realizzati dalla Federico II in collaborazione con grandi aziende nazionali ed estere un'esperienza che permetterà di formare figure specializzate nella trasformazione digitale e intelligenza artificiale per il corso digita mentre il corso Corre punta sui servizi pubblici tra lezioni frontali, laboratori, seminari, eventi esterni e project work in azienda Bene, siamo qui oggi per la quarta edizione di Corre Academy partiamo con questa edizione con grande entusiasmo con i nostri allievi, le nostre allieve che avremo per quasi cinque mesi nella formazione e soprattutto nell'elaborazione di project work finali che consentiranno a questi ragazzi di entrare nel mondo del lavoro e di utilizzare subito le competenze di Corre Academy Siamo molto contenti di questa video, di questa quarta edizione e ci aspettiamo naturalmente tra aprile e maggio per il graduation day e per la conclusione delle attività Per noi è stato uno strumento per poter essere sintonizzati con il mondo che ci circonda Oggi viviamo un'altalenarsi tra il predominio della tecnica e il predominio dell'etica con il rischio che affinando sempre di più ed esclusivamente gli strumenti tecnologici Gli strumenti che utilizziamo nel nostro lavoro magari ci dimentichiamo di portare avanti quelle competenze le competenze digitali che servono per costruire persone in grado di orientare questi strumenti Rompere l'assedio il ministro Matteo Piantedosi è tornato nella sua pietra stornina per parlare delle sfide del futuro che toccheranno Italia ed Europa con il giornalista Roberto Arditti Le sfide dell'Italia di domani, un po' d'Europa fa tappa in Irpinia A Pietra Stornina il circolo socio-culturale Petra Strumilia ha organizzato nel suggestivo scenario della Chiesa Maria Santissima dell'Annunziata la presentazione del libro di Roberto Arditti Rompere l'assedio Arditti, giornalista di lungo corso, ex direttore del Tempo affronta le questioni politico-economiche e sociali che impatteranno su Italia ed Europa nei prossimi anni dialogando con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presidente del circolo Petra Strumilia Un'iniziativa molto appropriata proprio da questo punto di vista perché cerchiamo di valorizzare queste espressioni associative che ci sono nei piccoli comuni del nostro meridione in generale nella nostra Irpinia per alimentare la discussione su temi che sono di portata internazionale Roberto Arditti è un interlocutore straordinario come si vede anche dall'ultima produzione che ha fatto è stata una bella discussione su grandi temi che riguardano gli Stati Uniti, la Cina, la Russia che sono non solo oltre il nostro portile di casa ma sono dei player mondiali che hanno capacità di incidere anche nel nostro ambiente domestico L'Irpinia è pienamente iscritta nel mondo europeo e in tutte le dinamiche che riguardano l'Unione Europea lo è orgogliosamente anche per le tradizioni storiche e culturali che hanno riguardato questa provincia e quindi il grande contributo che questa provincia ha saputo dare al dibattito pubblico da sempre Bisogna fare i conti con le grandi sfide nel nostro tempo, quelle che toccano anche e soprattutto le aree interne come l'Irpinia, sempre più a rischio spopolamento Sono zone piene di entusiasmo e di energie e di idee che vanno valorizzate in città succede senza bisogno di molto aiuto, qua bisogna applicarsi E con questo è davvero tutto il Tg termina qui Grazie per averci seguito adesso il Meto A voi una buona serata con i programmi di 8 Channel A voi una buona serata con i programmi di 8 Channel Grazie a tutti.